Bene amici di MobileOS.it, questo oggi giochiamo a Marvel Avengers Allianz, un tributo al film appena uscito al cinema e giustamente di tornano gli Avengers, torna quindi di interesse i giochi riguardanti appunto proprio gli Avengers ufficiali di Marvel scaricabile questo dal market, direttamente dal play store gratuitamente e abbiamo come vedete Nick Fari che è il nostro comandante come appunto nel vero e proprio film e naturalmente fumetto poi c'è Vedova Nera, Vedova Nera l'ho acquistata, l'ho presa nel team, l'ha aiutata, voi partite praticamente come un classico agente e poi potete cominciare piano piano ad aiutare i big, quindi Vedova Nera, Occhio di Falco, Capitano America, Iron Man eccetera Hulk, praticamente aiutandoli, li portate dalla vostra parte, dalla vostra squadra e riuscirete poi a avere una squadra abbastanza completa io l'ultima missione che ho fatto ho aiutato Iron Man e quindi praticamente Iron Man è diventato facente parte della mia squadra questa è il menu principale, è chiamato ponte di volo, qui c'è il negozio per andare ad acquistare le armi, alcune sono a pagamento qui si vede praticamente la squadra e ora non posso cliccarci perché mi dice per forza di andare sul ponte di volo quindi ok, andiamo qui, andiamo qui e facciamo combatti funziona così, ogni tanto arriva qualche missione e si parte con la propria squadra la mia squadra attualmente è composta da un agente che sono io, la Vedova Nera e Iron Man sono questi quelli che sono riuscito a collezionare nel periodo di gioco inoltre ogni tanto vi esce la possibilità di chiedere aiuto e quindi magari vi arriva Thor, vi arriva Hulk qualcuno che vi aiuta se siete in difficoltà nel combattimento sinceramente i primi combattimenti sono molto facili e anche un po' basici vi faccio vedere il perché non è che il gioco mi abbia entusiasmato molto, farò un'altra recensione di un altro gioco che sicuramente è molto più interessante per i combattimenti perché praticamente il gioco non è altro che mandare da una parte a destra le varie tecniche di combattimento dei vari personaggi quindi Vedova Nera è ferita, ecco ci sarà la possibilità di metterla a posto tramite un kit che ho facciamo usa, rimettiamo a posto Vedova Nera clicchiamo su Vedova Nera, l'abbiamo rimessa a posto e niente, quindi praticamente ora si va su combatti faccio combattere Vedova Nera la faccio combattere contro questo visto che già si trova un po' alla fine quindi sarà facile, come dire, ucciderlo ora gli mando contro Iron Man che forse lo finirà e infatti è proprio così, massacrato e ora ho l'altro, l'altro comincerà ad attaccare me funziona così, non ho mai capito il perché io purtroppo solo questa pistola d'ardi sono un po' poco forte devo dire, quindi non farò tantissimi danni sicuramente è molto meglio Vedova Nera che praticamente andrà a stenderlo negli altri combattimenti diciamo che funzionano così non ho fatto già 5-6 combattimenti ma più o meno sinceramente è questo il gioco non è che mi abbia intusiasmato molto l'avrei fatto un pochino più interessante ho scaricato però un altro gioco Marvel invece non mi ricordo bene il titolo ma si chiama Marvel e Combattimenti una cosa del genere quello è molto più interessante si fanno proprio combattimenti corpo a corpo quindi una specie di Tekken per chi si ricorda il famoso gioco di lotta su PlayStation e quindi forse un po' più interessante questo, carino per l'ambientazione magari carino per i personaggi ma nulla di più direi quindi che è tutto per questa recensione ci vediamo alla prossima cari amici di MobileOS.it ciao